Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake all'arancia con glass al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Ingredienti sono amido di mais, farina di tipo 00, yogurt alla vaniglia, zucchero semolato, pasta d'arancia o scorza d'arancia, uova, aroma d'arancia, liquore all'arancia, olio di semi di girasole, succo d'arancia, lievito per dolci e sale. Per la glassa, cioccolato fondente fuso, burro e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere le uova ed azionare il bimbi per 8 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere lo yogurt. l'olio, la farina, l'amido di mais, la pasta d'arancia, il succo d'arancia, l'aroma d'arancia, il liquore all'arancia, il sale ed il lievito. Ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4. Versare in uno stampo da plum cake da 30 per 11 centimetri, ben imburrato. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50 55 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto. Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e glassare. Nel frattempo preparare la glassa al cioccolato fondente fuso. Aggiungere il latte e il burro ed amalgamare. Plum cake all'arancia con glassa al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.